Clizia e Corvaglia, la sorella minore e Micol sono complici delle Iene nello scherzo organizzato. La vittima è Paolo Ciavarro, al centro di un triangolo amoroso indesiderato e pericolosissimo. Micol infatti si finge innamorata di Paolo, gli scrive una lettera, gli manda messaggi provocanti, lui respinge le sue avanze e le chiede di parlare con la sorella. Ma Clizia scopre tutto e la sorella minore nega tutto, scaricando la colpa su Paolo. La coppia nata nella casa del grande fratello Vip è un passo dalla rottura e Micol rivela a Paolo di essersi già venduta lo scoop.